Salve, ci siamo. Avevo pensato tempo fa di organizzare un canale YouTube proprio per parlare di calcio, per parlare di me da giocatore, di parlare di Lazio, la mia Lazio, la Lazio dello Scudetto e tutto quello che è la storia della Lazio. Parlare anche di quello che sta succedendo ultimamente, di campagne acquisti, di campagne cessioni, giocatori che vanno, giocatori che vengono, ma rimane alla fine solo una cosa importante, la maglia e i tifosi che portano sempre in alto il nome della Lazio. Vedrete dei filmati, filmati che grazie anche agli amici che mi daranno una mano vi varanno sottoposti e vi invito a divertirvi con me in questo canale perché veramente ci saranno divertirsi. Ciao a tutti!